E' partita questa mattina da Milazzo l'edizione 2022 del Giro di Sicilia, al via anche il vincitore dell'ultima edizione, il messinese Vincenzo Nibali. Quattro le tappe in calendario, si comincia appunto oggi con la Milazzo Bageria di 199 km, domani sarà la volta della Palma di Montechiaro Caltanissetta di 152 km, giovedì si correrà la Real Monte Piazza Merina di 172 km, venerdì si chiuderà con la Ragalna Etna di 140 km con arrivo a piano Provenzana. Nibali proverà a bissare il successo dell'anno scorso, ma dovrà fare i conti con Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Ellison e Henry Ponomar. Pronti a lasciare la loro firma, almeno su una vittoria di tappa, Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli. Tornare al Giro di Sicilia mi fa sempre piacere, ha detto Nibali, è la prima corsa di casa, penso sia una tappa importante per prepararmi al meglio in vista del Giro d'Italia e di conseguire i miei obiettivi e sono pronto a testare la condizione e ritrovare il ritmo gara dopo una piccola pausa e gli allenamenti in altura. Ho solo grandi ricordi della mia vittoria l'anno scorso qua in Sicilia, ha detto ancora il campione messinese, è stato qualcosa di assolutamente speciale. Siamo di nuovo qui e ho al mio fianco una squadra molto forte e sono sicuro che la mia Astana potrà fare bene in questi quattro giorni. Dunque appuntamento domani per l'arrivo della seconda tappa in Viale Regina Margherita a Caltanissetta con i campioni che nello sprint finale si contenderanno la vittoria.